Adesso andiamo ad occuparci di un altro caso lontano nel tempo di ben 36 anni fa l'ultimo duplice delitto del mostro di Firenze a Scopeti e lo affidiamo alle cure fra virgolette, non vogliamo scherzare su queste cose, dell'avvocato Pepi perché c'è stato un sopralluogo della polizia scientifica di nuovo nella scena del crimine sulla scena del crimine. Che sta succedendo avvocato Pepi? Questo sicuramente rientrerà nei vari filoni che si sono riaperti ultimamente dal legionario della legione straniera e quant'altro. È chiaro che un sopralluogo agli Scopeti dopo tutti questi anni, tra l'altro se non vado errato ci fu anche un incendio che bruciò la siepe dove si sarebbe nascosto il Lotti. Il Lotti insieme all'altro di San Casciano? All'aperto così, all'aperto e a distanza di così tanto tempo con tutte le contaminazioni che potremmo aver fatto anche quando siamo andati a fare dei sopralluoghi postumi per le trasmissioni televisive. E li abbiamo fatti anche noi in diretta, una notte addirittura, si è costruendo la tenda. Sì sì, mi ricordo con mio padre siamo andati proprio per Giallo Toscana ormai vari anni fa però io credo che prove a questo punto sarà molto difficile trovare anche semplici indizi. Però ovviamente sono atti dovuti probabilmente per cui la procura sta indagando su altri filoni. Cosa si può trovare 36 anni dopo in una scena del crimine? Avvocato Manzo e poi Avvocato Berriamo. Beh allora credo che... Ve lo chiedo da difensori eh. Allora bisognerebbe capire se il sopralluogo è un sopralluogo disposto dalla procura e quindi di indagine o finalizzato per esempio una ricostruzione storica qualche perché sono stati fatti anche vari documentari, vari... Ma ti posso aiutare dicendo che per esempio c'è stata una ricerca anche fotografie con l'aiuto di microcamere di parti di fusti, di alberi che c'erano già nell'85 che forse potrebbero diciamo nascondere qualcosa. Vogliono probabilmente ricostruire con i mezzi perché l'unica cosa che mi viene in mente è che ovviamente il percorso, il progresso scientifico porta a poter sempre utilizzare degli strumenti migliori però è chiaro che anche se si riesce a ricostruire o a trovare qualche elemento io la vedo un po' come il collega Pepi cioè sono passati troppi anni e ormai non è più nemmeno il luogo di una volta e non credo ci sia nulla che possa aiutare le indagini. Ecco ma la domanda tecnica banalissima per voi uomini di legge è parlando di nuove tecniche ma non sarebbe tanto semplice andare a cercare come si era detto qualche anno fa e poi lo chiederò anche a Pepi il DNA che magari potrebbe essere ancora presente su qualche reperto di quei tempi e confrontarlo con coloro che sono stati accusati o di questi duplici delitti mi viene in mente Pietro Pacciani e Mario Vanni? Non so se ci sono disponibili questi reperti. Ma fu detto che venivano e poi non se ne è parlato più. Sentiamo cosa ci dice. Che ci dice la parola? Allora i confronti con il DNA di quelli che sono stati ritenuti i colpevoli i compagni di merenda e anche Pacciani ormai avrebbe anche poco senso perché sono sostanzialmente tutti morti e tra l'altro la verità giudiziale sui compagni di merenda è stata scritta e quindi ormai c'è poco da discutere se non fare una revisione. Ha partecipato anche Gianco Alberto Pepi insomma come avvocato storico del Vanni. E per altri individui bisognerebbe comunque avere l'idea di con chi confrontarli e tra l'altro si sta parlando di prove prese negli anni molto risalenti per cui non sappiamo se ci sono state contaminazioni, come sono state conservate. Io non sono un biologo ma non credo che il DNA si conservi se viene contaminato con altri agenti esterni. Il caso di Elona Calescia lo confermerebbe con la saponificazione eccetera ma sarebbero perse eventuali tracce della donna sulle maniglie dei trolli. Insomma non si chiude mai questa vicenda. Sono vicende che probabilmente per i mezzi dell'epoca o per anche delle volte perché anche casi recenti noi sappiamo fra tutti anche il caso di Meredith che dice no, che c'era stato dei problemi nei reperti. C'è alcune volte e soprattutto nei primi momenti successivi per un discorso anche di impeto, di enfasi, di dramma si magari entra su una scena del delitto senza le dovute accortezze e insomma credo... C'era quella traccia di DNA sul fermato... Bravo, sul reggiseno, che era stata compromessa. Immagino che l'ultimo omicidio del mostro risale all'85 e all'epoca era ancora più complesso l'accertamento. Allora anche qui Avvocato Pepi mi raccomando ci dia notizie di eventuali nuovi sopralluoghi anche per capire come la curiosità non è soltanto di Filippo Bellagamba ma anche e soprattutto di tutti quanti noi per capire quali sono gli scopi di questi sopralluoghi scientifici. Noi ci fermiamo qua. Grazie a Filippo Bellagamba. Grazie a voi, alla prossima. Grazie a Massimiliano Manzo. Grazie Vittorio, buonasera a tutti. E all'Avvocato Jacopo Pepi. Grazie a tutti, buonasera. Grazie.